I love new york questo logo è super mega famoso non so quante t-shirt ho comprato con questo logo e le comprate tutte a new york city ma oggi vi devo dare una brutta notizia ma devo chiarire un qualcosina su questo logo ciao sono chris benvenuti in questo nuovo episodio sugli stati americani oggi parliamo dello stato di new york nome principale è chelsea state ma meglio conosciuto o su moltissime targhe si trova the empire state nell'intro del video vi ho fatto vedere il logo di I love new york cosa molto interessante non riguarda la città di new york city ma è un logo registrato dallo stato di new york più precisamente dal dipartimento dello sviluppo economico dello stato poi ovviamente ha preso piede grazie al turismo new yorkese ed è diventato popolare come I love new york che io per primo ho sempre indossato come maglietta di io amo new york new york city non lo stato andava detta questa cosa capitale di questo stato albani altre tre città super famose ovviamente new york city Syracuse e buffalo abitanti poco più di 20 milioni il 40 per cento però è nella città che non dorme mai la grande mela new york city new york city ha 8,8 milioni di abitanti buffalo 270 mila e Syracuse 150 mila comunque città importanti città grandi lo slogan ovviamente è I love new york devo dire la verità non è stato per niente facile fare delle ricerche sullo stato di new york perché come potete immaginare in qualsiasi motore di ricerca in qualsiasi ricerca in qualsiasi sito in qualsiasi cosa mettendo new york state ovviamente il 95 per cento delle informazioni che arrivano sono solo della città di new york quindi non è stato facile ma ce l'ho messa tutta e sono riuscito a completare in genere quello che racconto dei vari stati in questi episodi iniziamo col dire che inizialmente questo stato si chiamava new amsterdam è uno stato ovviamente importantissimo non solo negli stati uniti ma anche in tutto il mondo infatti la sede delle nazioni unite è qui nella città di new york city nello stato di new york da aggiungere anche i rapporti commerciali fortissimi col canada anche grazie alle cascate del nyagara che sono ovviamente un confine tra gli stati uniti nello stato di new york e can molto importante dire che la stazione dei treni la grand central terminal nello stato di new york è la più grande al mondo come lunghezza dei binari e come numero di binari e per tantissimi anni è stato un riferimento organizzativo parliamo a questo punto di lavoro di business di economia che cosa è importante nello stato di new york ovviamente la parte finanziaria gli investimenti finanziari molto importante il retail e il trade per quanto riguarda il cibo per quanto riguarda le bevande per quanto riguarda la tecnologia ma anche le auto e i pezzi per le auto e per ultimo ma non per importanza anche la parte produttiva legata alla costruzione di elicotteri o pezzi per elicotteri vetro e tantissime in questo stato è molto molto importante il cibo ci sono cose che sono considerate non dico eccellenze ma riferimenti per quanto riguarda ovviamente gli stati uniti e molte nascono appunto dallo stato di new york partiamo dal bagel classico bagel con cream cheese a new york city ma anche a buffalo e anche a syracuse ci sono tantissimi posti che vendono bagel e c'è sempre una sfida costante nel fare i più particolari andiamo avanti coi pretzel e ovviamente le buffalo wings ma nota importantissima lo stato di new york ha una sua pizza la new york style pizza che non è per forza legata alla città di new york ma in tutto lo stato la new york style pizza è molto semplice è una pizza con crosta alta è una pizza fine e tipicamente è tagliata a slice a fette perché è una pizza da sport da mangiare sulla metro sul pullman in macchina in strada dappertutto insomma troverete queste new york slice in giro dappertutto a costi molto molto bassi fino a pochi anni fa era 0 99 a slice a fetta arriviamo le cose assolutamente da vedere in questo stato ovviamente è un po me ne dispiace ma è così nello stato di new york molte cose fanno riferimento a cose da visitare a new york city e infatti parto da una cosa caratteristica dello stato di new york le niagara falls le cascate del niagara andiamoci a manhattan con sicuramente central park e sicuramente times square thousand islands e infine copperstown vi propongo sempre cose inusuali da vedere per ogni stato e ovviamente immancabili le unusual things da vedere nello stato di new york partendo da qui ero un po indeciso deciso di metterne due city hall station oppure il binario 61 il track 61 la caserma dei pompieri dei ghostbusters e visto che abbiamo parlato della grand central terminal della stazione dei treni di manhattan vi suggerisco un posto questo dove si può sussurrare in un posto e sentirlo da un'altra parte un posto che può essere romantico carino simpatico arriviamo alle cose che vi suggerisco di vedere inizio con un doppio punto come ho fatto con le unusual perché ero indeciso parliamo degli hamptons in generale oppure di montauk che è un posto sempre negli hampton alla punta dove si possono osservare le balene direttamente dalla camera di hotel seconda cosa vi suggerisco in qualsiasi orario che sia di giorno di pomeriggio al tramonto di sera scegliete un rooftop andateci vedere manhattan new york city da un rooftop è un qualcosa che secondo me è da fare fa vedere le cose con una prospettiva diversa terza cosa che vi suggerisco è un'isoletta proprio di fronte a manhattan con una vista spettacolare parlo delle QC spa queste spero il video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate se avete dei suggerimenti su come procedere ho finito il new england vi lascio la playlist qui sopra e sotto in descrizione ho deciso di approcciare lo stato di new york e sono un po indeciso se andare verso sud o se andare verso ovest fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti grazie a tutti grazie grazie a tutti è un bellissimo momento ci vediamo al prossimo video ciao